Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale, come state? Oggi vi voglio parlare dei piani che ho per il futuro, almeno per quanto riguarda il mio PC. Adesso non lo vedete perché è fuori dall'inquadratura, però lo avete visto sicuramente in tantissimi miei video, è sempre lì sullo sfondo. Prima di iniziare però con questo video vi voglio ricordare che questa configurazione che vedrete è presente sul sito che abbiamo realizzato per voi, ovvero Visible Build. Un sito dove potete trovare tantissime idee di configurazione rispetto al vostro budget, ma non solo, rispetto soprattutto alle vostre esigenze. Potete infatti vedere sia gli FPS a 1080p che a 1440p a massima risoluzione per alcuni giochi. Mi raccomando memorizzate questo sito tra i preferiti perché arriveranno sicuramente delle belle anche nelle prossime settimane. Tra queste cose vi spoilerò anche un configuratore per PC così che possiate giocare un po' e farvi in autonomia i vostri preventivi, un po' per sognare o magari anche solo perché vi interessa realmente. E mi raccomando trovate il link qui sotto in descrizione. Dopo 4 anni e mezzo di onorata carriera sotto stress dalla mattina alla sera incomincia ad avere i primi cedimenti. E devo dire che con l'utilizzo che ne faccio io veramente mi ha stupito perché è durato tantissimo. E solo adesso incomincia ad avere dei piccoli difetti qua e là che ancora non si vanno tanto a definire, però potrebbero essere sia a livello di RAM che di processore che di GPU. Insomma è ancora quella fase nella quale si teme il peggio ma ancora non è successo ma potrebbe succedere a breve. Facciamo le corna. Quindi ho pensato di cambiare completamente genere e di creare quindi una configurazione, una nuova build pensata per video editing, che è quello che faccio qui su YouTube e poi anche per tutto quello che faccio di lavoro. E io di mestiere faccio il designer per così dire, adesso rimango così sul generico, poi magari un giorno vi parlerò di quello che faccio nello specifico perché è molto interessante e potrebbe piacere a qualcuno di voi. Beh ma sto divagando, mi serve soprattutto perché realizzo grafiche non solo 2D ma anche 3D e avete visto questo anche nella mia serie di modellazione 3D per la stampa 3D. E quindi ho bisogno di un po' più di potenza di calcolo, diciamo molta più potenza di calcolo rispetto a un computer nato e pensato soprattutto agli inizi per il gioco. Infatti questo computer ha sempre montato un i5 4690k, 16 giga di RAM quindi un po' di più di quello che serve effettivamente per il gioco, una GTX 970 e poi insomma tutto il resto che può servire per raffreddarlo e per la memoria fisica. E ora la notizia delle notizie, quella più bomba in assoluto soprattutto per chi mi segue da tantissimo tempo, sostituirò Intel con AMD. Ebbene sì, i motivi sono svariati, il primo è che il processore si chiama Threadripper, cioè è un nome stupendo, cioè leggetelo qui, è fantastico, cioè è bellissimo, è geniale, AMD, su questo nulla da dire. E seconda cosa preferisco il rosso al blu. No non è vero ovviamente queste sono due cose stupidissime. In realtà l'MD3Dripper è decisamente quello che può servire a me, mi sarei dovuto se no muovere sui nuovi i9 o i7, però sinceramente della serie 9 mi fido ben poco. Anche perché non abbiamo ancora veri e propri benchmark e di conseguenza è sempre meglio aspettare. Mentre gli MD3Dripper hanno sicuramente più anni alle spalle e molti più successi dal punto di vista proprio della realizzazione di configurazioni PC. Ad esempio Dimitri e il suo staff di Hardware Canax lo usano da tempo e si trovano benissimo. E loro registrano e editano in 4K a 60fps, quindi di più di quello che faccio normalmente io. Sicuramente la nuova configurazione mi permetterebbe poi di fare anche questo passo successivo, che per ora ho messo da parte proprio perché per me era molto difficile editare il tutto. Su Premiere con questo PC, insomma, le cose non andavano benissimo. Ma direi veramente che vi ho annoiato fin troppo, quindi passiamo al computer così vi faccio vedere di che cosa si tratta e qual è la configurazione che ho scelta. Ed eccoci qui ragazzi, mi sono leggermente girato e sono qui davanti al mio computer. In questo momento vedete OBS che registrerà la schermata che vedrete in grande a momenti e vedete anche il primo pezzo, ovvero il pezzo più importante di questa configurazione. E nello specifico vi sto parlando del Threadripper di AMD, ovvero il 2920X. E adesso regia, mettimi nell'angolino in alto così faccio vedere meglio il tutto. Bene, perfetto così. Questo è proprio un processore AMD Threadripper, il più piccolino in realtà tra tutta la line-up di AMD e infatti è un 12-core da 3.5 GHz. Direi più che mai per quanto riguarda le mie esigenze, infatti passo da un quad-core a 12-core e quindi sarà già un salto immenso. Come vedete non costa per niente poco ma tutta questa build costa tanto, infatti costa 653€ se sono fortunato a trovarlo a quel prezzo. È una serie molto particolare, anche il socket è molto particolare, infatti in questo caso parliamo di un TR4, non il classico di AMD che siete abituati a utilizzare. Sono processori un po' più grandi e hanno bisogno purtroppo anche di schede madri che tutto sommato sono anch'esse molto costose. Perché sono pensate proprio per computer workstation, quindi parliamo di soluzioni molto più professionali che di gioco. Sebbene voi possiate tranquillamente giocare con un processore del genere e con tutta la build che farò. E visto che vi stavo parlando di schede madri, beh insomma bisogna proprio pensare a quest'ultima. E nel mio caso mi sono concentrato sempre sul mondo MSI perché lo ritengo veramente eccezionale, soprattutto sui prodotti di fascia medio-medio-alta. Ma senza divagare ulteriormente vi faccio vedere qual è stata la mia scelta ed è questa, ovvero una MSI X399 SLI. Come vedete anche in questo caso il prezzo è alto, parliamo di 330€, ci sono anche altre soluzioni e anche più care, intorno ai 500-550€. Però ritengo che questa sia una scheda che va bene per le mie esigenze. Ha ovviamente tutto quello che serve, vi faccio vedere perché prima vi parlavo di particolarità per quanto riguarda queste schede madri. Abbiamo ben 8 slot RAM, quindi abbiamo la possibilità di aggiungere veramente tutto quello che ci serve in quantità industriale. Abbiamo ovviamente anche lo slot per gli SSD M.2 e tutto quello che può servire per un normale computer. Abbiamo anche un sacco di LED, cosa volete di più? Scherzi a parte questa è veramente una bellissima scheda madre e sono convinto che sia l'ideale per me. E comunque tra CPU e scheda madre siamo già intorno ai 1000€. Eh, insomma, fa male. Molti di voi che mi seguono da tempo sanno benissimo come io prediliga il raffreddamento ad aria rispetto a quella liquido. E in questo caso non faccio assolutamente eccezioni, infatti ho pensato di acquistare un Cooler Master Master Air MA62 e poi il codice va avanti e non me lo ricordo più finché non lo leggo, quindi MA620P. Ed è anche RGB, quindi aggiungiamo LED su LED perché aggiungo gli FPS, vi ricordo. Certo, come no? In questo modo teniamo anche un po' più contenuto il prezzo, normalmente comunque un raffreddamento a liquido costa intorno ai 150€. Qui siamo intorno ai 95€, come potete vedere in questo caso. Tra l'altro è compatibile praticamente con qualsiasi socket, ci sono i vari attacchi nelle scatole, basta ovviamente utilizzare quello giusto per la vostra scheda madre e per il vostro processore. Però come vedete è anche abbastanza tamarro, come piace a me, così che va benissimo in una configurazione anche per coloro che amano, insomma, anche un po' il lato estetico da gamer e non solo per il lavoro. Bene, ci manca ancora un bel po' di roba, però quello che andremo adesso a vedere saranno le RAM. Ho voluto spingere un po' oltre, normalmente ho sempre avuto 16GB, questa volta mi spingerò sui 32GB. Perché la maggior parte dei programmi che normalmente sfrutto durante le mie giornate utilizzano CPU e RAM in maniera molto intensiva. E quindi più ne ho, meglio è. E in questo caso sono ancora un po' scettico su quali acquistare, devo farmi un pochino di idee, però visto che volevo comunque stare anche un po' sul lato estetico, molto probabilmente acquisterò comunque delle RAM RGB. E optavo probabilmente per queste, ovvero le famosissime e storiche G-Skill Trident Z. Sono molto conosciute, le utilizzano praticamente tutti, costano 168€ per due banchi da 8GB e quindi insomma alziamo sicuramente il prezzo perché siamo ben oltre le 320€ per ben 32GB di RAM. E non sto facendo il conto, fatelo voi, incomincia a essere abbastanza impegnativo. Ebbene, quindi abbiamo sostanzialmente processore, scheda madre, RAM e raffreddamento. Al conto mancano ancora delle cose, prima di tutto la GPU e poi lo spazio hard disk. Per quanto riguarda la GPU, per la prima volta nella mia vita acquisterò un prodotto di ultima generazione. Tendenzialmente acquisto sempre prodotti della generazione passata per essere più certo della qualità e quindi andare un po' come dire a colpo sicuro. Però passando da una GTX 970 mi sembrava un po' stupido acquistare una 1080 Ti che comunque è una scheda stupenda e non pensare a una 2080, quindi una RTX 2080 che a livello di prestazioni si avvicina alla 1080 Ti però aggiunge, almeno per quanto mi riguarda, il mondo ray tracing che per il lavoro che faccio è molto molto utile. La tecnologia che sta dietro a Turing e quindi il ray tracing non è una cosa che sto lì a guardare molto per quanto riguarda il mondo dei videogiochi. Però sicuramente credetemi per quanto riguarda la produttività spinta, quindi il lavoro grafico, 3D, animazione è un capolavoro. E anche in questo caso mi appoggio a MSI, vi ho già parlato di questa scheda qualora non avesse visto la recensione vi lascio il link qui nelle info. E vi sto parlando proprio della MSI RTX 2080 Trio. È una scheda che a me esteticamente piace tantissimo, ad alcuni non piace molto il fatto che ci sia la ventola più piccola sebbene sia stata fatta così per uno scopo puramente pratico per poter collegare due schede del genere in SLI o SLI o come volete chiamarlo. Ma a parte questo che è puro gusto estetico, questa è una scheda molto ma molto bella, molto potente. Nei primi benchmark si è visto come per quanto riguarda il mondo videogiochi è ancora un po' castrata. Non so se il problema siano i driver oppure videogiochi semplicemente che non la supportano a dovere però per quanto riguarda i benchmark spinti a livello di calcolo, quindi di vera potenza bruta se la compete tranquillamente con le Titan XP e di conseguenza vuol dire che è veramente molto ma molto potente e nel mio caso diventa realmente un pezzo importantissimo. E devo dire che grazie anche alla miriade di LED che ha intorno a sé questa build probabilmente sarà molto più esteticamente da gamer che da lavoro sicuramente perché avrò LED ovunque però è una cosa che a me piace particolarmente è sempre lì in bella vista, lo vedete nei video e non può essere brutto dai insomma anche l'occhio vuole la sua parte no? Ah tra le altre cose prima ho detto che mancavano solo due pezzi ma manca anche il case ecco quella è una cosa importante dopo ve ne voglio parlare quindi questa è la scheda per quanto riguarda invece lo spazio fisico ho optato per un SSD M.2 di Samsung ovvero il 970 EVO da 500 giga e invece per lo spazio fisico inteso come hard disk ho già un hard disk da 4TB Western Digital Blue e terrò quello però nella configurazione sarà calcolato così potete vedere un po' il prezzo totale e per quanto riguarda il case ecco allora in questo caso sono ancora dubbioso infatti voglio un po' un consiglio da parte vostra vi metterò qui in un sondaggio ben tre case il primo è il Fractal Design Define R6 molto compatto, molto minimalista ma un po' tutte queste build a parte quella di Cooler Master sono molto minimaliste il secondo case infatti è l'NZXT H500i anch'esso minimalista con una bellissima vetrata sul lato ma abbastanza spazio da farci stare praticamente tutto anche se voi voleste magari mettere un raffreddamento a liquido con tanto di radiatore insomma c'è tutto lo spazio necessario e infine invece un case un po' più tamarro in assoluto direi molto tamarro ovvero un Cooler Master nello specifico il Master Case H500p insomma li avete visti adesso qui ve li ho fatti passare sotto forma di immagini fatemi sapere che cosa ne pensate voi vedrò un po' cosa ne pensate penserò anch'io un pochino più a fondo e deciderò ah che stupido ragazzi io continuo a dimenticarmi delle cose l'alimentatore? beh non lo cambio per ora perché ho un bellissimo Silent Storm di Sharkoon da 750 watt che è ben oltre quello che mi serve e di conseguenza utilizzerò quello però se dovessi cambiarlo in questo momento molto probabilmente utilizzerei un EVGA Supernova che è anche certificato 80 plus gold e quindi sicuramente vi permette di risparmiare un po' per quanto riguarda l'energia elettrica e niente ora dovrò tentare semplicemente di mettere da parte i soldi e forse riuscirò a acquistarlo realmente beh ragazzi questa è la configurazione che ho scelto per me per quelle che sono le mie esigenze si avrei potuto anche aspettare magari qualche mese il problema più grosso è che il mio computer come vi ho detto all'inizio mi sta letteralmente abbandonando e di conseguenza è meglio che correre i pari prima perché se no se mi dovesse trovare dei giorni senza computer nel mio caso sarebbe un problema perché lo uso per lavoro, per svago, per youtube insomma troppe cose e poi non sono mai uno che tende a prendere proprio le ultimissime cose uscite lo sto facendo adesso per la prima volta su una scheda grafica perché visto che devo configurare un nuovo pc mi sembra stupido prendere schede di una generazione passata preferisco già buttarmi sul nuovo quindi fatemi sapere voi che cosa ne pensate vi ricordo nuovamente che trovate questa configurazione insieme a tantissime altre sul sito che abbiamo realizzato per voi ovvero Visible Build e lo trovate qui sotto in descrizione poi preparatevi perché tra qualche giorno spero non troppo in là uscirà anche un configuratore pensato proprio per poter realizzare il vostro computer dall'inizio alla fine in piena autonomia farvi i vostri preventivi e quindi sbizzarrirvi più che potete vi consiglio poi di seguirmi su Instagram così rimanete aggiornati su tutte le novità anche quando arriveranno effettivamente i pezzi e inizierò l'assemblaggio di questa bestia che non vedo l'ora veramente di poter provare di avere qui con me e farci anche qualche benchmark così da mostrarvi se effettivamente vale la pena per ora è tutto ragazzi quindi non mi resta che salutarvi come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su iscrivetevi al canale e noi ci vediamo sicuramente con il prossimo video a presto iscrivetevi al canale grazie a tutti